Andrea ciao, come sta andando il tuo cammino sulla via di San Francesco? Direi che sta andando alla grande, nel senso che sono qui con l'amico Claudio e proprio mezz'ora fa abbiamo concluso la ventesima tappa, è venerdì sera, questo vuol dire che domenica pomeriggio attorno alle 16 arriviamo davanti San Pietro e concludiamo questi quasi 500 km di cammino, arrivati oggi a Monte Libretti abbiamo già cominciato a intravedere la piana che domani arrivati a Monte Rotondo ci permetterà di vedere San Pietro. È un cammino questo che ha anche un aspetto diciamo spirituale religioso oltre che l'aspetto fisico, vale un po' per tutti i cammini ma forse per questo in particolare? Sicuramente come tanti altri miei viaggi l'ho vissuto anche dal punto di vista spirituale perché essendoci molto silenzio attorno ti permette molto di riflettere e ricercare il tuo io. Poi le persone che abbiamo incontrato, i luoghi devo dire che ci sono stati degli alti e bassi però c'è veramente tanta intensità. Adesso avverto di essere cresciuto poi quando tornerò a casa secondo me sentirò e avvertirò un clic superiore. C'era questa possibilità di incontrare anche Papa Francesco, c'è questa chance come siete messi da quel punto di vista diciamo? Purtroppo no perché avevamo la possibilità di partecipare all'udienza mercoledì 3 ma non ci sarà udienza perché c'è un altro evento che organizzano in Vaticano e da quello che ho capito insomma è assolutamente blindato. Questa avevi detto dall'inizio deve essere una cosa diversa, un'impresa diversa. Qual è stata la differenza? Dal Perù del 2016 dove ero andato via completamente da solo per 26 giorni dove per 17 non ho spiaccicato diciamo una parola in italiano. Qui sono sempre stato in compagnia. Ora mi trovo con Claudio, oggi c'era Massimiliano. Poi Andrea Baglio che è stato con me tutti i 23 giorni fino ad ora perciò i 22 giorni di cammino filmando ogni momento. Uno degli aspetti che mi piaceva di questo cammino è stato quello di condividere le storie, chiacchierare durante il cammino soprattutto durante la sera. Ognuno che rispettava il proprio silenzio. Devo dire che mi è piaciuto molto perché tutte le persone che ho avuto fianco mi hanno supportato anche questo. Una bella 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 avventura.